Oggi va in un belico show, va ad essere festo che si è già uscente i santi, prati belico finale, da una nai con i topi di basme, oggi va a naruto, da un'idea meno, e io di un'unico naruto, caro, e dove c'è? Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima